Sabato sera 5 agosto la tradizionale festa patronale è l'arrivo della Madonna della neve dal mare nel quartiere delle Fornaci un evento seguito da moltissime persone tra tradizione e fede un momento di silenzio e di raccoglimento di preghiera che è credente brevi che non è credente rispetto a fede siete qua per religione per tradizione se l'avete mai vista non l'abbiamo mai vista mai vista guarda io sono 22 anni se vengo a speggio qua non sono mai riuscito a vederla per un motivo per l'altro passevamo di qua stasera e ci siamo fermati sono qui per devozione perché la Vergine Maria è mondiale la sua fama quindi bisogna vederla sotto tanti aspetti poi chiamata Madonna della neve ad agosto non sembra qualcosa un po' di esotico in piena estate ma la fede penso che sia quella ruota che fa girare il mondo io penso che ognuno di noi deve riflettere tanto sulla Beata Vergine Maria perché non finirà mai mai e poi mai di stupire né me e nel mondo intero cosa vuole sapere di bene? se viene tutti gli anni o no? noi veniamo tutti gli anni a vedere la nostra Madunia ma abitate da sempre qua? a Savona a Savona ok siamo venuti a passeggiare a passeggiare siamo venuti a vedere la nostra bella Madunia grazie a tutti